Chi è? Giuseppe con l'amante. Eh vabbè dai. Come vabbè? Roberto si è fatto l'amante. Antonio si è fatto l'amante. E prassi un bel. Io alla fine vorrei capire qual è la differenza tra la moglie e l'amante. Trenta chili. Chilo più, chilo meno. Chilo meno. No, non chilo meno. Chilo meno, chi non è?